andiamo e intanto dopo viene giungo il palo, andiamo e io curo, lo sai che ti curo oh vai, vai, è andato avanti, è andato, vai oh vai, 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 vai gira da dio no no, gira perfetto no 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 con calma piano pianino spettacolo 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 stai su alto che ce l'hai tutto libero vedi che l'ha portato via l'ha portato via l'ha portato via un sassone della madonna guarda che buco che hanno fatto dentro hanno buttato lì tutti i sassi da parte perchè proprio quello lì? probabilmente era qualcosa di strano perchè cazzo e dopo l'avranno portato via da qua perchè l'hanno portato via da sopra via l'ho 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 minchia reella maggiore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso devi venirci dietro, o esci qua e vai fuoristrada e ci vediamo giù, perché qua non ce n'è più di sentiero. E' andato? E' andato? E' andato? E' andato? E' andato?